Salve a tutti, benvenuti e bentornati. Come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Si ritorna a parlare di telefonia, si ritorna a parlare di Iliad, si ritorna a parlare di telefonia mobile e una nuova offerta che si potrebbe definire Wow, che ho atteso un pochettino per poterne parlare, perché tanto c'è tempo per poterne parlare. Mi riferisco all'ennesima offerta Wow, offerta Flash, che poi tanto Flash non è, perché appunto da quando è stata lanciata il tempo a disposizione per sottoscriverla è un mese. Al momento in cui vi parlo sono 21 giorni. Per la precisione scaderà il 14 di aprile. E cosa prevede questa offerta mobile di Iliad? Ebbene, le caratteristiche sono sempre le stesse dell'offerta Iliad, minuti limitati, SMS limitati, chiamate verso oltre 60 paesi nel mondo tra rete fissa e rete mobile. La lista completa è consultabile sul sito di Iliad, ma cambia ogni giga. Quindi per 9,99 euro abbiamo a disposizione 150 giga al mese e 7 giga in roaming europeo. Per sempre. E sappiamo che quando Iliad dice per sempre, è per sempre. Che cosa dirvi? È un'altra di quelle offerte. Wow! Devo anche dire, piccola parentesi, per quanto riguarda la rete fissa, la fibra di Iliad, che sono rimasto stupito, visto che a Roma ho una copertura, sono in una zona dove è coperta da diversi operatori in fibra ottica e quindi pensavo di sottoscrivere Iliad, visto il prezzo particolarmente interessante, soprattutto per chi già ha un'offerta mobile, ma ho scoperto che non sono coperto nella zona dove abito a Roma da fibra Iliad. Quindi tutto rimandato, per quanto riguarda l'esperienza della fibra Iliad, a quando sarò raggiunto dalla copertura Iliad in fibra ottica oppure aspettare che ci sia un accordo con qualche altra infrastruttura di rete in fibra ottica. Io vedo in Iliad un grande potenziale, sempre un grande potenziale, e lo ha dimostrato, però posso dire una cosa, gli manca sempre un tantino così, e sono bravissimi quelli di Iliad, ma gli manca sempre un tantino così, il poter customizzare l'offerta mobile oppure essere più completi nell'offerta della teleofilia fissa. Però Iliad ha portato una rivoluzione.